Prendiamo capitolo 10, dal versetto 12 del capitolo 10 al versetto 17 del capitolo 11, noi troviamo individuata la prima tentazione e la risposta. Nel Deuteronomio il testo del libro lo troviamo suddiviso in tre grandi discorsi di Mosè. Il primo discorso è molto semplice, è una sintesi un po' dell'Esodo, va dal capitolo 1 al capitolo 4, i primi quattro capitoli. Dalla fine del capitolo 4, è il più lungo, fino al capitolo 28, quindi diciamo capitolo 5 al capitolo 28, è il secondo discorso. Presenta il codice dell'alleanza in particolare. Il terzo discorso è molto breve, capitoli 29, 30, e fa da introduzione agli ultimi tre capitoli, 4, 31, 32, 33, 34, che sono la parte storica, il racconto storico degli ultimi giorni di Mosè. Questo è lo schema del libro 1, 4, 5, 28, 29, 30, i tre discorsi. Poi dal 31 al 34, la descrizione di alcuni fatti degli ultimi giorni di vita di Mosè, praticamente, le ultime settimane di vita. Vediamo adesso la prima tentazione contro il primo comandamento. La tentazione la conosciamo già, l'utilitarismo. Dopo aver letto, voi mi direte com'è che si manifesta l'utilitarismo e qual è la risposta data per affrontarlo. Chiaro? Allora, dal versetto 12 del capitolo 10 fino al versetto 17 del capitolo 11. Israeliti, il Signore vostro Dio vi chiede soltanto questo, di rispettarlo e comportarvi come Lui vi ha indicato, di amarlo e onorarlo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Osservate i comandamenti e le leggi del Signore che oggi vi comunico. Se farete così, sarete felici. Al Signore vostro Dio appartengono il cielo sconfinato, la terra e tutto quello che contiene. Ma il Signore rivolse il suo affetto soltanto ai vostri padri e li amò. Dopo di loro, fra tutti i popoli, ha scelto voi, i loro discendenti, fino a oggi. Non continuate a essere testardi ed eliminate la durezza dei vostri cuori. Infatti, il Signore vostro Dio è Dio su tutti gli dèi e Signore su tutti i signori. Egli è il Dio grande, forte, terribile. Non fa preferenze e non si lascia corrompere con regali. Difende i diritti dell'orfone e della vedova. Ama gli stranieri che vivono con voi e procura loro cibo e vestiti. Perciò amate questi stranieri perché anche voi foste stranieri quando eravate nell'Egitto. Rispettate il Signore vostro Dio, onoratelo e restate di fedeli. Fate giuramenti solo nel suo nome. Il Signore è il vostro Dio e Lui solo dovete ringraziare. Avete pur visto i miracoli terribili che ha fatto per voi. Quando i vostri padri andarono in Egitto, erano 70 persone. Ora il Signore vostro Dio vi ha reso un popolo numeroso come le stelle in cielo. Amate il Signore vostro Dio e osservate sempre le sue prescrizioni. Le sue leggi, le sue norme e i suoi ordini. Voi dovete riconoscere oggi quello che il Signore vostro Dio vi ha insegnato. E che i vostri figli non hanno conosciuto né visto. La sua grandezza e la sua potenza straordinaria. Voi avete visto i miracoli con cui il Signore ha castigato il Faraone re d'Egitto e il suo paese. Come ha trattato l'esercito egiziano, i suoi cavalieri e i suoi carri. Essi vi inseguivano ma il Signore li ha travolti con le acque del Mar Rosso e li ha distrutti per sempre. Avete visto come il Signore si è preso cura di voi nel deserto e vi ha condotti fin qui. Avete visto anche quello che ha fatto ad Atan e a Biran, figli di Eliab, della tribù di Ruben, come la terra si è spalancata e ha inghiottito loro, le loro famiglie, le loro tende e tutti gli altri israeliti che si erano ribellati insieme a loro. Con i vostri stessi occhi avete visto tutte queste imprese che il Signore ha compiuto. Osservate perciò tutti gli ordini che oggi vi comunico. Solo così sarete forti e potrete impadronirvi del paese che ora state per conquistare. Vivrete a lungo nella terra che il Signore ha promesso di dare ai vostri padri e ai loro discendenti, terra dove scorre latte e miele. In questa terra che state per possedere non sarà come nell'Egitto da dove siete usciti. Là quando seminavate i campi dovevate irrigarli con fatica, come si fa per un orto. Ma nella terra in cui andate ci sono monti e valli e il suolo irrigato dalla pioggia. Il Signore vostro Dio si prende cura di questa terra e la rende sempre rigogliosa dall'inizio alla fine dell'anno. Se obbedirete veramente agli ordini che oggi vi comunico, se amerete il Signore vostro Dio e lo servirete con tutto il cuore e con tutta l'anima, Egli farà scendere la pioggia sui vostri campi nella stagione giusta, in autunno e in primavera, e voi ne ricaverete frumento, vino e olio. Il Signore farà crescere nei pascoli l'erba per il vostro bestiame. Avrete sempre da mangiare e da saziarvi. State attenti e non lasciatevi ingannare. Non allontanatevi dal Signore e non servite dai stranieri e non adorateli. Altrimenti il Signore andrà in collera contro di voi, chiuderà il cielo e non vi darà più pioggia. Allora la terra non darà più raccolti e voi scomparirete presto dalla terra fertile che il Signore sta per assegnarvi. Dove è indicata la tentazione? Oh, notate una cosa, né? In tutto il Deuteronomio le indicazioni concrete sono normalmente a tre a tre. Come per esempio, non so, al versetto 12, no, qui per la vita sono quattro. Il Signore vi chiede soltanto questo, di rispettarlo, comportarvi come lui vi ha indicato, di amarlo e onorarlo con tutto il cuore. In questo caso sono quattro, ma normalmente sono tre. Per esempio, al versetto 13 del capitolo 11, se obbedirete veramente agli ordini che vi ho comunicato, se amerete il Signore vostro Dio, se lo servirete con tutto il cuore e con tutta l'anima, aludo. Questa riflessione a triade ha di bello che ognuno degli aspetti completa l'altro e danno insieme delle indicazioni abbastanza complete e spicciole anche. Cioè di prospettiva e insieme anche concrete e quotidiane. E' bello abituarsi a riflettere su questi inviti che la parola di Dio fa, su questi aspetti che mette in luce. Non basta non fare il male, bisogna anche fare il bene, non basta osservare, bisogna anche mettersi il cuore, eccetera. Molto bello. Allora, la tentazione, dov'è indicata in particolare? Avete individuato? Versetto? Del capitolo 11. E il versetto 16 del capitolo 10. Sono legati insieme? La tentazione è nel versetto 16 del capitolo 11. State attenti, non lasciatevi ingannare, non allontanatevi dal Signore, non servite dei stranieri, non adoratevi. Ecco qui, un'altra triade. E quando è che questo succede? Quando succede? Quando ci capita, quando lasciamo entrare dentro di noi il contrario di quel che dice il versetto 16 del capitolo 10. Non continuate a essere testardi ed eliminate la durezza del vostro cuore. La cociutaggine nel fare il male è dovuta all'incapacità di fidarsi e di amare. Il cuore è ostinato. Pensate, l'accusa fatta durante l'esodo al faraone, il comportamento del faraone per la sua ostinazione, che si autodistrugge, senza niente, senza schiavi, senza utilità immediata, senza esercito, senza figlio, il falimento completo, la testardaggine, la cociutaggine nell'ostinazione, diventa l'accusa che la Bibbia fa al popolo di Israele. Il bene e il male non passano attraverso dei confini né etnici, né culturali, né sociali, né politici, né religiosi. Bene e il male stanno nel cuore di ciascuno. È nel nostro cuore che si decide cosa si vuole essere. Bene e il male sono dentro. Cos'è che noi decidiamo di prendere in mano, di far diventare nostro? Perché che siano nel cuore non vuol dire che sono nostri, né? Sono presenti come possibilità. Il comportamento del nemico più acerrimo può diventare il nostro. Quello che ci scoccia di più negli altri può diventare il nostro stile. Semplice, basta poco. È vero o no? Lo sappiamo tutti per esperienza questo. Quindi quel non continuare a essere testardi, eliminare la durezza del cuore, cioè quindi imparare ad amare per poter non cadere nell'idolatria. Perché il vero problema per gli ebrei è sempre stato questo. E sapete specialmente da quando? Da quando sono entrati nella terra promessa. Pensate, una volta arrivati là dove Dio li aveva guidati, una volta realizzato il sogno di avere un territorio loro nel quale poter vivere da popolo libero in una terra libera, con rapporti liberi verso i vicini, eccetera, fatto questo sono caduti nell'idolatria. Può essere quello, ci sono stati ormai tranquilli, ormai garantiti e ci sono cascati. Oppure non si sono accontentati, volevano non solo avere le garanzie, ma anche non far fatica, essere garantiti nelle cose spicciole anche. Perché? Che in fondo in fondo l'idolatria antica in che cosa consisteva? Nel cercarsi delle divinità che garantissero ciò che serve per vivere. Mentre il Dio di Abramo vuole dar senso alla vita, e poi come controprova dà anche la possibilità di essere contenti nel quotidiano, gli idoli si riducono a prometterti di far andare bene le cose spicciole di tutti i giorni. E infatti c'è il Dio per far piovere, il Dio per far venire il sole, il Dio perché la stagione funzioni, il Dio che faccia trovare pascoli giusti, il Dio che guarisca dalle malattie, il Dio che faccia questo, il Dio che faccia quello, il Dio che faccia... Tante divinità, ognuna per qualcosa di spicciolo. Per cui, gok el promoché, cure de callé, gok el promoché, cure de callá. Proprio in un certo senso, come un poliambulatorio con tanti specialisti, e si va a cercare quel che serve. Grazie. Grazie.